Amici di Youtube, buongiorno dal vostro Lino Juventus. Andrea Pillo confermato, ma sinceramente ragazzi, a tre giornate dalla fine, che senso ha cambiare un allenatore? Poi per prendere chi? Tudor. Cambia qualcosa secondo voi? Per me alla fine è la cosa giusta perché l'allenatore andava cambiato secondo me dopo Benevento, dopo la sconfitta col Benevento, che c'era la pausa della Nazionale, allora potevi esonerare Pillo e prendere qualcun altro. Ma cambiare un allenatore a tre partite dalla fine non trovo senso, come non trovo senso a questa stagione. Quindi ragazzi, facciamoci il segno della croce. Io non vedo l'ora che finisce questa stagione e poi da settembre, da giugno, ci miglioreremo per settembre quando inizierà la stagione. Io dico che per me oggi non era senso esonerare Pillo, non cambierebbe niente. Quindi, facciamoci il segno della croce queste tre partite e vada come vada. La svolta andava data prima, non adesso. Adesso non ha senso, come ho detto prima. Quindi, ragazzi, io non so cosa dire perché dopo ieri abbiamo toccato il fondo più totale. Questa è una squadra che non c'è più, non c'è un'idea, non c'è uno schema, non c'è un animo, non c'è niente. Quindi, io già mi sono rassegnato, ma al che va, andiamo a giocare in Europa League. Forse ci sta anche bene un anno in Europa League, così si fa un po' di pulizia, perché alla Juve va fatta un bel po' di pulizia. Magari ripartire da dei giovani con voglia, con entusiasmo e poi si vedrà. Il miracolo può sempre succedere, perché alla fine comunque ci sono 9 punti. Però questa squadra non ha né capo né coda, quindi non lo so. Però, ripeto, avere segnalato Pillo oggi non cambiava niente. Quindi, segno della croce e finalmente tre partite è tutto finito. Un abbraccio, ragazzi. Grazie. Grazie.